Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovo video Oggi sono qui per mostrarvi finalmente i miei regali di compleanno Il mio compleanno è stato il 25 novembre e se vi siete persi il video vlog in cui vi portavo con me in quella giornata Ve lo lascio qui nelle schede di informazioni È stata una giornata davvero molto divertente, mi sono divertita tantissimo perché sono stata con i miei parenti e dopo anche con i miei amici Quindi mi sono divertita davvero tantissimo, è stata una giornata piena di emozioni, stra stra divertente In questo video vi mostrerò quindi i regali dei miei parenti e i regali dei miei amici Quest'anno il mio compleanno è stato totalmente diverso dal punto di vista dei regali Perché ho scelto insieme ai miei genitori e mia sorella i regali che quest'ultimo mi avrebbero dovuto fare Praticamente io sono andata a comprare con loro il regalo e l'ho provato davanti a loro in sostanza Io sono sempre stata abituata a ricevere i regali effetto sorpresa Quindi non sapevo e non ho mai saputo il regalo che avrei ricevuto né a Natale né al compleanno Sa come farò questo Natale? Non lo so, vedremo Comunque a proposito del Natale, io vi ricordo che sto registrando giorno per giorno i Vlogmas Per chi ancora non li conoscesse, i Vlogmas sono dei vlog giornalieri o comunque dei video giornalieri Che vanno dall'1 dicembre fino al di solito 25 dicembre C'è gente che li porta anche un po' più avanti E servono per aspettare tutti insieme l'arrivo del Natale Anche quest'anno io ho deciso di farli e sono infatti ogni giorno alle ore 19 i Vlogmas E io penso che li porterò avanti fino al 31 Vediamo un attimino come va, vediamo anche un attimino cosa mi dite voi E se non li seguite ancora, siete ancora in tempo perché A proposito di Vlogmas sono le 19 e quindi è appena uscito un Vlogmas Quindi lo vado subito ad annunciare su Instagram Stavo dicendo che se ancora non avete iniziato a guardare i miei Vlogmas siete ancora in tempo Perché siamo solo al giorno 7 Quindi potete recuperare tutti quelli che vi siete persi E potete seguire insieme a tutti gli altri quelli che ancora devono venire In ogni caso se siete nuovi sul canale, benvenuti A parte questa piccola grande premessa Direi di tornare sul tema principale di questo video Cioè i miei regali di compleanno Come vi dicevo, li ho scelti insieme ai miei genitori Sono pochi regali ma centrati Regali che mi servivano, regali che mi piacciono da matti Purtroppo ne manca ancora uno in particolare Però siccome sono già passati molti giorni dal mio compleanno Perché il mio compleanno è il 25 novembre Oggi per voi è il 7 dicembre Quindi è passato comunque un po' di tempo Ho deciso comunque di fare il video E nel caso alla fine comprassi quella cosa che ho in mente Ve le farò vedere appunto sui Vlogmas Quindi non potete perderveli Se volete vedere appunto l'altro regalo di compleanno Quando le cianci, cianci alle bande Direi di iniziare Allora prima di tutto voglio mostrarvi Una cosa che mi ha fatto troppo troppo piacere ricevere Sono degli orecchini di Assessorize Che vabbè sono già aperti per dettagli E me li ha regalati una mia compagna di classe È stata tanto tanto carina E mi piacciono davvero tantissimo Allora sono i tipi di orecchini Quelli lì a cerchio Nella confezione ce ne sono di tre tipi Quello più grande, quello medio e quello più piccolino Però quello medio se non sbaglio No, quello più grande No raga ho un dubbio Me ne è caduto uno Comunque non mi ricordo se quello più grande o quello medio Me l'ha acciolato mia sorella Perché le piacevano molto E a me sono rimasti Quelli più piccolini Che forse sono anche quelli più adattabili Alle occasioni anche giornaliere tranquillamente E sono anche i miei preferiti Sono stra stra carini Rimangono molto leggeri sull'orecchio E secondo me con l'outfit giusto Con l'occasione perfetta Proprio stanno da dio E poi ci sono gli altri che mi sono rimasti Che appunto mi sono certo dubbio Se sono quelli grandi o quelli veri Comunque anche questi Magari in un'occasione un po' diversa Perché io non sono abituata ad avere gli orecchini Ho sempre avuto gli orecchini molto piccolini Appunto in un'occasione magari diversa Rispetto le occasioni in cui userei quelli più piccolini Si Mi è caduto di nuovo Dicevo che si potrebbero mettere anche questi Quindi mando un bacione a Elena Appunto alla mia compagna che mi ha fatto questo regale È stato tanto tanto carino I miei nonni poi mi hanno fatto ovviamente le letterine E volevo far vedere quella dei miei nonni da parte di mio papà Che è tipo stra stra carina Perché è fatta così Con tutte le farfalline E poi dentro vabbè è fatta così con la dedica Ogni anno i miei nonni dalla parte di mio papà Si svezzoniscono davvero tantissimo con le letterine Invece dalla parte di mia mamma sono sempre molto Basilari Perfetta la letterina bianca ok Quindi è inutile anche farvela vedere Passiamo ora al regalo che mi hanno fatto i miei amici Quest'anno non mi hanno fatto i regali singoli Ma mi hanno fatto un regalo tutto insieme E sono stati davvero troppo carini Perché hanno centrato il regalo perfetto Ed eccoci qua Se mi seguite sui social E siete stati attenti Alle storie e alle foto Alle frecciatine che vi ho mandato Questo regalo l'avete già visto Perché l'ho fatto vedere in una foto E il giorno del mio compleanno Quando ero con i miei amici Ho messo una storia del cartellino di questa cosa Quindi siete pronti? Chi l'aveva indovinato? Dai sinceri Ditemelo nei commenti 3, 2, 1 Voilà I miei amici mi hanno regalato la felpa dell'Octopus E mi hanno preso questa qui Che è quella bianca sopra E poi ha i tentacoli neri O meglio ha i tentacoli bianchi Però lo sfondo dove ci sono i tentacoli è nero Tra l'altro dentro è felpata Perché è tipo stramorbida Non si vede tantissimo Però vi giuro che qui tiene un bolso di caldo E adesso vi mostro il regalo di mia mamma E di mio papà Quindi dei miei genitori Che mi hanno preso una cosa Che chiaramente mi serviva Che però adoro troppo E ho deciso se prendere La giacca della Karart O questa giacca che adesso vedrete Ma tutte le persone che conosco Che ce l'hanno Mi hanno detto che sia quella della Karart Che quella della Napapiri È scomodissima da mettere e togliere Sarà pure bella Perché effettivamente è fantastica Però è davvero scomoda E l'ho notato anche io Quindi ok E ho preso 3 2 1 Voilà Ho preso il Colmar E l'ho preso nella colorazione nera A parte che la telecamera sfalza pure il colore della felpa Però guardate questo E questo Seriamente Non è nero Vabbè comunque io tra il blu e il nero Preferivo il nero Ho ovviamente di comprare anche un paio di scarpe Però sono molto indecisa su quali scarpe prendere E siccome costano un pochino Un po' tanto Quelle che vorrei comprare Sono un po' indecisa se comprarle o meno Tenerle un paio che ho molto simile E quindi sono un pochino indecisa E si tratterebbe del regalo che mi farebbe mia sorella Comunque non so Un attimino se ora evito di comprarlo E basta Ci passo proprio sopra Anche perché in questo periodo ho comprato davvero molte cose Se mi seguite sui Vlogmas ho comprato davvero tante cose E poi mia mamma ci sta facendo il calendario dell'avvento Cioè un calendario dell'avvento personalizzato E quindi anche lì ci sta prendendo davvero molte cose Quindi sono un po' indecisa se comprare o meno Queste paio di scarpe Perché come avevo detto Un poio molto simile ce l'ho già Quindi devo un attimino capire Questi erano i miei regali di compleanno Io spero il video vi sia piaciuto E vi ricordo che alle 19 Ci vediamo sempre qui Sempre su questo canale Con il nuovo Vlogmas Quindi non potete mancare Un grande bacione Grazie mille per aver seguito il video Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto E mi raccomando Fatemi sapere se i miei regali vi piacciono Commentando qui sotto E scrivetemi quando è il vostro compleanno Perché sono molto molto curiosa di capire Se c'è qualcuno magari vicino al mio Oppure se siete totalmente lontani Dal 25 novembre Vi ricordo ancora una volta che ci vediamo alle 19 Sempre qui su questo canale Con il nuovo Vlogmas Quindi non potete perdervelo Fatemi sapere se questa cosa del doppio video Il giovedì e la domenica vi piace Perché io ci tenevo a pubblicare dei video anche natalizi Quindi non solo i Vlogmas Ma anche dei video proprio natalizi E ne ho già in mente molti Quindi fatemi sapere perché Credo che a voi faccia solo piacere E a me fa solo piacere registrarli Vi mando un fortissimo abbraccio Vi ricordo ancora per la millesima volta Finché proprio non vi entro in testa Che alle 19 ci vediamo con il nuovo video E basta Noi ci vediamo alle 19 E poi ci vediamo domani Sempre alle 19 Sempre qui Sempre su questo canale Ciao Ciao